Concorrenti ballando con le stelle 2023. Nel cast una famosa giornalista? Francesca Barra nuova concorrente del talent show di Millie Carlucci. Le ultime anticipazioni. Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui svela su così retroscena sui personaggi più amati dai lettori. E sull'ultimo numero uscito nelle edicole il giornalista ha posto le sue attenzioni sulla prossima edizione di Ballando con le stelle. Cosa ha rivelato? In base alle indiscrezioni da lui raccolte pare che tra i concorrenti del talent show del samadino. In base alle indiscrezioni da lui raccolte pare. La quale ieri è stata ospite alla vita in diretta da Alberto Matteo. Per parlare della finalissima del cantante mascherato di sabato prossimo. Francesca avrebbe già accettato l'allettante proposta. E se così fosse Dandolo ha quindi ipotizzato che il suo compagno sarebbe costretto a dedicarsi sempre di più ai figli. Visto il presunto grande impegno che attende la giornalista. Tutti questi rumor verranno presto confermati o smentiti? Alberto Dandolo non ha dubbi. Ecco perché Millie Carlucci l'ha voluta nel cast. Successivamente il giornalista del magazine Oggi ha anche svelato il motivo per cui il volto di Rai Uno avrebbe stranamente voluto Francesca Barra nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Quale? La sua crescente popolarità ha dovuto al grande successo che sta ottenendo il suo podcast e di suoi libri. Ma anche perché è ormai diventato un volto riconosciuto dal pubblico a casa. Visto che spesso e volentieri è invitata nelle varie trasmissioni televisive a parlare degli argomenti del momento. E tutto ciò ha avuto un effetto molto importante. Sarà davvero nel cast del talent show VIP della Carlucci? E se sì? Come se la caverà? Chissà. Intanto si segnala che il suo nome non è stato l'unico ad essere stato accostato al cast dello show. Di fatti settimane fa è stato riportato che anche Antonio Caprarica è in lizza. L'ha confermato lui stesso da Mirta Merlino all'aria che tira.